Che dire, Satabi e Satabi, il prossimo video sarà tutto che facile, perché? Beh, perché parlerò di una casa sacerdotale ben poco conosciuta, Ienarei, ma vi ho già detto anche troppo, quindi sigla. Satabi e Satabi e Satabi e bentornati ancora una volta qui su Incontri di Storia, io sono Lorenzo, il vostro chat da un po' per accanto, e come sempre presentiamo tutti i ragazzi della Cricka del Sottosuolo. Logicamente, come potete immaginare, oggi finiremo di parlare del video per quanto riguarda l'armi, ovvero l'esercito italiano in Russia, quindi lo finiamo con il nostro caro Max. 21 febbraio 1943, bollettino numero 630 dell'Alto Comando Sovietico. Si comunica che solo il corpo d'armata alpino italiano possa ritenersi imbattuto in terra di Russia. Ma davvero credete che abbia ordinato alla Stavka di relare un simile bollettino? E addirittura farlo leggere e per di più farlo diffondere in tutto il mondo tramite Radio Mosca? Vabbè. Ok, Max, ho l'NKVD che mi sta bussando la porta. Che devo fare? Mi chiedono di te. Eh, Satabi e Satabi! Benvenuti e purtroppo poi entri per l'ultima volta qui su Incontri di Storia, insieme a me e al caro Max, il vecchio bastardo. Ciao a tutti da vecchio bastardo, scusate sono un po' di corsa per scappare dal KVD. Comunque grazie a Lorenzo ancora per l'invito. E ci mancherebbe Max, grazie ancora a te, perché tra l'altro il video scorso mi è piaciuto veramente tanto e che dire, spero che sia piaciuto anche tanto al... al nostro, al nostro popolo, ai nostri, ai nostri spettatori, oltre che al commissariato del popolo per gli affari... Ok, andiamo avanti Max! Allora, nella parte precedente abbiamo un po' dato le premesse di quello che poi andiamo a vedere più in dettaglio in questo video qua, nella seconda parte. In questa immagine vediamo più in dettaglio tutte le direttrici degli attacchi dell'Armata Rossa nel settore meridionale tra novembre 1942 e marzo 1943. Il 19 novembre del 1942 l'Armata Rossa lancia l'operazione Urano, la grande operazione programmata dallo Stavka per accerchiare le forze della Wehrmacht a Stalingrado. Non ci soffermeremo su questa offensiva, vi facciamo notare le direttrici d'attacco dell'Armata Rossa, qui rappresentate, con ben quattro manovre a tenaglia per insaccare i tedeschi e predisporre più linee a sbarramento sia in caso di ritirata della sesta armata sia nel caso di contraattacchi per rompere l'accerchiamento. Anche perché qui, ragazzi, vediamo probabilmente, insieme poi all'operazione Bragation, probabilmente una delle operazioni più complesse a livello di uomini e tutto, di tutta la seconda guerra mondiale, ovviamente del fronte orientale, perché il D-Day è il D-Day. Sappiamo benissimo. Confermi, Max? Bragation fu ancora più grande come operazione. Assolutamente sì. Anche perché Stalin, mi sembra che a livello propagandisco, dicesse, ah beh, Bragation, Bragation, cioè è praticamente dalla Russia a Berlino. Praticamente lui diceva, c'era proprio questa enorme crociata della grande guerra patriotica. Ricordatevi, i russi, soprattutto i sovietici, non la chiamavano tanto la seconda guerra mondiale, ma grande guerra patriotica, che è ancora adesso una delle feste più sentite in Russia, ancora adesso, anche dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Sì, ci sono oltre a le parate militari, ci sono anche le parate dei familiari dei Reduci, che portano le immagini dei loro familiari. Comunque, torniamo a noi. In questa immagine si riassumono i movimenti nel settore meridionale, si notano bene le manovre esposte prima intorno a Stalingrado e la posizione del D-Day, che abbiamo indicato con una freccia. All'interno di Urano, i russi predispongono anche l'operazione Piccolo Saturno, l'operazione che coinvolgerà il settore italiano. Dall'11 dicembre inizia la fase di logoramento. I russi martellano le posizioni italiane e saggiano con attacchi tattici le capacità difensive e di reazione dei reparti italiani. Da questa immagine potete vedere l'importanza del controllo di quota 220 di cui abbiamo parlato nel video precedente ed è indicata dalla freccia. A questo punto, per chiarezza di esposizione, dobbiamo però dividere gli eventi in due. Prima parleremo del destino delle divisioni di fanteria e poi torneremo su quello che accadde a corpo di spedizione alpino. Vediamo quindi quello che accade sul fronte centro e destra. Il 16 russi attaccano in massa, si aprono dei varchi tra le unità, passano, inizia la fase di rottura. Solo il 19 comandi italiani ordinano il replicamento delle divisioni del centro e della destra, in pratica dalla Cosseria alla Sforzesca, che non riescono a mantenere le posizioni e rischiano di essere accerchiate. Gli eventi corrono, i russi comandano la situazione, i generali italiani e tedeschi non riescono a fermare l'onda. Confusione, ordini contraddittori, sbandamenti, i comandi contribuiscono a crescere questo caos, come una nuova direttiva che ordina alla Sforzesca di tornare ad una linea precedente sulla quale, isolata e disorganizzata, viene sbaragliata. I carri russi rompono le retrovie, distruggono e uccidono. Il 20 inizia la ritirata verso ovest, con i reparti suddivisi sostanzialmente in due colonne. Il blocco nord, formato dai resti della Ravenna, della Pasubio, dalla Torino e dalla 298esima divisione di fanteria tedesca, cerca la fuga in direzione di Zerkovo, ma il 21 delle vicinanti di Arbuzovka, trova la via sbarrata e nella battaglia che terminò il 25, nella cosiddetta battaglia della Valle della Morte, vennero sostanzialmente distrutti. Solo piccoli gruppi poterono sfuggire in direzione di Zerkovo. E tra l'altro questa cosa qui, per quanto riguarda il Novitirassi, mi ricorda tanto anche quello che successe anche con l'ottava armata tedesca di von Meinstein, che è stato bellissimo la cosa, praticamente. Von Meinstein era generale e voleva arrendersi ai sovietici. Allora Hitler utilizza uno stratagemma... Vai, vai, vai. Dimmi, dimmi, se sbaglio dimmelo, non ti preoccupare. Vai, vai. E praticamente Hitler utilizza uno stratagemma alquanto meschino perché dice ah sì, ti vuoi arrendere anche se è generale, ma io ti promuo Feldmaresciallo e nessun Feldmaresciallo nella storia dell'esercito tedesco si è mai arreso. A von Meinstein non gliene frego molto si è arrese. Però ti devo correggere, scusami, ma sennò siamo esposti a grosse critiche. In realtà la sesta armata è von Paulus. Ah, von Paulus, è vero, è vero. È vero. È vero, è vero, non von Meinstein. Von Meinstein dopo gli indisgrazi per un'altra cosa. È vero, mea culpa. Scusatemi ragazzi. Ok, andiamo avanti. Il blocco sud, costituito da una parte della Celera e dai reparti della Pasubio, dai pochi della Sforzesca, oltre a tedeschi e rumeni sbandati, iniziò la ritirata in pieno disordine. Senza adeguati mezzi e organizzazioni di comando. In breve, una marcia a piedi nella neve a meno trenta gradi di temperatura, di disperati in cerca di salvezza. Una marcia in cui la colonna perde continuamente uomini e parte dei pochi mezzi. Le unità furono circondate presso il fiume Zir. Alcuni reparti ripiegarono presso Kalmyukov, dove vennero sbaragliati. Altri furono presi prigionieri e rimasti accerchiati nella città di Millerovo. Solo in trecento di due battaglioni della Sforzesca, un reggimento di bersaglieri e uno della Pasubio, in condizioni di totale disorganizzazione e sbandamento, abbandonando la maggior parte delle armi, riuscirà a raggiungere le linee tedesche. Alla fine del 1942, quindi, tre dei quattro corpi dell'armir erano ormai praticamente distrutti con perdite gravissime. Ragazzi, tre quarti di un'armata. Tre quarti di un'armata distrutta completamente. Pensate semplicemente quale effetto poteva avere sugli altri soldati, sulle altre persone che sono sopravvissute. Purtroppo questo, come ha già detto Max e come avevamo già fatto nel scorso video, al direttorato supremo del fascismo, al gran consiglio del fascismo, questo interessava ben poco. e pensiamo alla tragedia di quegli uomini. La tragedia di uomini. la divisione di uomini. La divisione di uomini alla divisione di vicenza, sì, quella di vicenza di cui abbiamo parlato nel video precedente, e prende posizione intorno al nuovo califo. In quei giorni la divisione alpina in pratica si dissanguerà. Corpi umani contro i T-34. Sostanzialmente la situazione rimane questa al momento. Il fronte coperto dalla Tridentina alla Cuneense non viene investito. Il conto per tutti lo paga la Iulia sulla califra. Il fronte rimane sostanzialmente invariato fino al 13 gennaio 1943, quando lo Stavka lancia la terza fase del piano, l'offensiva Ostroposk-Rossosch. A partire dal 12, ebbe immediatamente un grande successo, in particolare nel settore ungherese. I potenti concentramenti di artiglieria sovietica schiacciarono le difese e provocarono il rapido crollo dell'armato ungherese schierata a Monte della Tridentina. Reverberi, il comandante della Tridentina, invia staffette per cercare di capire la situazione e restabilire contatti, ma gli italiani non vi trovano nessuno ungherese. Appena ricevute le notizie, Reverberi informa Lasci. Tra l'altro, mi sembra, non vorrei sbagliare di nuovo, mi sembra che tra l'altro Bedeschi, quello di 100.000 gavette di ghiaccio, era nella Giulia. Se l'è fatta tutta la campagna, mi sembra. Sì, e fu uno dei... l'ha raccontata in quel bel libro. Sì, esatto, esatto, mi ricordo. Ragazzi, stiamo a pensare di una parte estremamente importante del video, quindi se non mi sentite parlare tanto, è perché Max ha bisogno anche della concentrazione per fare il tutto, perché, appunto, quindi, Nasci, che cosa fa? È più che altro per cercare con le nostre parole, con il racconto di calarvi un po' in questa tragedia. Nasci contatta Gariboldi, a cui comunica la situazione. Gariboldi, anche dietro pressioni tedesche, che vorrebbero tenere gli alpini a sacrificarsi sul dondici, a Nasci, che dalla sua posizione, la situazione non sembra così drammatica, anche perché i comandi tedeschi, sottovalutando ancora una volta l'armata rossa, pensano che abbia terminato mezzi e uomini per un'ulteriore avanzata. Nasci risponde che dalla sua posizione ripare di avere già i russi alle spalle. I tedeschi stanno progettando dei contrattacchi che fermeranno i russi. Il comandante del corpo alpino risponde che i tedeschi si stanno appropriando di mezzi e muli italiani per scappare prima e più veloci degli italiani. I russi compaiono al Rossocio, ritenuto in retrovia sicuro e importante centro per le salmerie e dei veicoli che in larga parte vengono distrutti. Sono segnalati le parti dell'armata rossa anche in altre parti, anche in altri settori. La situazione è ormai fuori controllo. I comandi poco sanno e quello che sanno è oramai vecchio, superati dagli eventi controllati dai russi. Nasci, intuisce la situazione, si rende conto che ormai i russi sono ovunque che gli alpini rischiano di essere circondati. Secondo alcune ricostruzioni, Nasci stava per diramare l'ordine di ritirata il 15. Secondo la versione dell'esercito, per le ore 16 del 17. La sera del 16, Garibold intima nasci di resistere sul Don. La situazione si fa sempre più disperata. Cadono altre località. La Iulia non riesce più a arrestare la massa dei russi sulla Calitva. Gli alpini sono sul punto di essere insaccati. Finalmente, alle 11 del 17 gennaio, Garibold di telefono a Nasci dando il via libera. Nasci comunica che le operazioni di ritirata inizieranno entro le 17. Si danno quindi gli ordini per il ripiegamento. Si formano tre colonne di marcia con porta di uscita indicata in Valuichi, piazzaforte munita data ancora in mano tedesca. Gli italiani però non sanno che Valuichi è stata nel frattempo abbandonata e che i tedeschi hanno deciso di riformare la linea ancora più indietro. La colonna della Tridentina viene informata da un aereo Cicogna della Luftwaffe e quindi la direttrice viene cambiata. E le altre? E qui viene fuori ancora una volta la disorganizzazione, l'incapacità e l'impreparazione italiana. Da una parte si pensa che le altre colonne siano state anch'esse informate. Si prova con le radio, ma il paese del suo inventore ha a disposizione apparati inefficienti e che nelle condizioni ambientali in cui operano di scarsa copertura di segnale. La Tridentina, ma non solo perché insieme a questa marciano sbandati di altre unità italiane, ungheresi, rumeni e tedeschi, continua quindi in una nuova direzione. Le altre? E le altre continueranno la riterata indicata senza sapere che a Valuichi i russi hanno costituito un formidabile sbarramento nel quale uno alla volta si andranno a infilare la Cuneense, la Vicenza, il comando della Iulia con i pochi superstiti degli altri battaglioni, resti di divisioni e di altre nazionalità. A Valuichi quindi vengono sbaragliati e oppresi i prigionieri quello che rimane di due delle tre divisioni alpine costituenti il corpo di spedizione alpino. Fin da subito la ritirata assume la forma della disfatta, non è una marcia all'indietro ordinata, ma se ne vede fin da subito il dramma, la tragedia, una rotta, una disfatta di mezzi e di uomini che dovranno scappare dai russi a temperature polari, senza neanche avere un equipaggiamento adatto. Tanti, troppi mezzi vengono subito abbandonati, privi di carburanti o perché non in grado di muoversi. I pezzi di artiglieria più pesanti non in grado di essere trainati saranno resi inservibili, molte altre armi saranno abbandonate quasi subito. Ci si rende conto che servirà a trasportare cibo oltre alle armi che si dovrà fare a forza di braccia. Pochi saranno le parti che manterranno l'integrità operativa, più per il carisma dei loro ufficiali che per la capacità dei comandanti. Potrei dire solo una cosa, più che carisma io avrei detto proprio cieco fanatismo, come abbiamo visto anche con Gavi Boldi che mi ha ricordato tanto un alto generale che sicuramente era più competente di lui ma allo stesso tempo fanatico e rispettoso, ovvero un certo Cadorna. Ma con i loro ufficiali intendo proprio i tenenti, i capitani, quelli con la truppa e più a contatto e che davvero il carisma, l'empatia che si è formata tra questi ufficiali e la truppa li fa mantenere uniti. Vero, anche se purtroppo avrei anche da raccontare una cosa che è successa appunto al mio bisnonno che aveva combattuto e diciamo che lì il carisma era diventato appunto altro, però hai perfettamente ragione e sicuramente queste persone non voglio credere che fossero tutti asserviti al potere del Consiglio Superiore del Fascismo e che fossero persone che volentemente vorrebbero importare i loro compagni a casa. quindi inizia la ritirata degli alpini alcuni si imbatteranno nelle retrovie e nei magazzini troveranno cibo e prendi oppure grappa e si ubriacheranno morendo così congelati nella neve. inizia la ritirata inizia la ritirata una ritirata durante la quale non ci sarà spazio in alcuni per l'umanità per l'essere persone continuamente attaccate ai fianchi da soldati dell'armata russa e dai partigiani dovendo affrontare gli sbarramenti che i russi li metteranno loro davanti nel tentativo di intrappolarli e catturarli arrancando tutti i giorni e tutte le notti camminando nella neve a meno trenta pensare a se stessi o al massimo dai compagni del plotone con cui si è legati con cui sono vissuti gli scontri sul don e con cui si marcerà all'indietro sperando un giorno di poter ritornare a baita ci sarà chi si fermerà insieme al compaesano ferito morente o semplicemente distrutto dalla fatica a condividerne il destino per non dover spiegare a casa perché lui è tornato e l'altro no le fedi nuziali le fedi nuziali passeranno di mano in mano da un compagno all'altro perché almeno loro tornino indietro le lettere le ultime scritte con le poche forze rimaste affidate ad un amico per un ultimo saluto alla moglie ai figli ai genitori ci si batterà per scarnificare bestie congelate per trarne qualche brandello di carne da mangiare si useranno i fucili per difendere l'isbe in cui si è trovato rifugio per la notte dagli altri che proveranno ad entrare perché restare all'aperto di notte a quelle temperature significa la morte ci si potrà anche ritrovare all'interno di una di quelle isbe sentire bussare e ritrovarsi davanti un giovane alpino poco vestito chiedervi chiedervi se vostra figlia fosse in casa andando poi solo a morire così nella neve al gelo a meno trenta con il rumore del vento a rendere ancora più terribile quello che vi appare davanti e poi Nikolaevka l'ultimo sbarramento prima di uscire dalla sacca dopo duecento chilometri di marcia all'indietro a piedi la mattina del 26 gennaio 1943 la colonna della tridentina giunge davanti a Nikolaevka una colonna di circa 40.000 uomini quasi tutti disarmati e in parte congelati l'attacco partì alle 9.30 la ferrovia dopo sanguinosi scontri fu raggiunta e fu conquistata anche la stazione ma i russi reagirono e gli alpini costretti ad arretrare ad aspettare i rinforzi verso mezzogiorno i rinforzi arrivano ma quando ormai il sole stava per calare dopo ore di combattimenti stava per arrivare la notte con le temperature che sarebbero scesi fino a meno 35 che avrebbe significato per tutti l'assideramento e la morte fu in quel momento che il generale Reverberi su uno dei due semoventi tedeschi rimasti e gridò tridentina avanti quell'urlo quel grido rimbalzò fino nelle retrovie dove la massa degli sbandati fu scossa e si lanciò avanti italiani tedeschi ungresi rumeni urlando spessi a mano nude disarmati si riversarono verso Nikolaevka verso il sottopasso e la scarpata della ferrovia i russi furono sorpresi e Nikolaevka fu presa dagli alpini questo questo fatto salute è alquanto commovente e comunque fa anche capire quanto queste persone erano unite nonostante appunto magari fanatismi e altri io mi ricordo sempre che durante l'assedio di Stalingrado oltre a quello del soldato tedesco che muove ogni sette secondi c'era anche il fatto che una volta Goering fece installare delle radio nei vari accampamenti dicendo che i soldati tedeschi in quel momento erano come leonida contro le orde dell'est che combattevano ci sono chiaramente dei documenti in cui dicono che 99% delle radio da cui usciva questo messaggio dopo un po' non funzionavano più perché erano piene di proiettili perché queste persone erano stufe di sentire scusatemi il termine queste cazzate dette da Goering e company comunque dopo altri giorni di marcia la colonna raggiunse le posizioni tedesche a Scebechino i superstiti dopo altri 350 km di marcia e 13 scontri poterono finalmente riposare al 30 gennaio 1943 due delle divisioni alpine oltre al battaglione Monte Cervino possono essere considerate annientate nella steppa dell'armata rossa e anche la stessa tridentina pur riuscendo ad uscire dalla sacca lo fece a prezzo di gravissime perdite e abbandonando quasi tutti i mezzi le artiglierie e le armi di accompagnamento in questa tabella possiamo vedere le perdite in uomini e in materiale subite dall'armir tra l'11 dicembre 1942 e il 31 gennaio 1943 in un mese e mezzo grosso modo non so Lorenzo se vuoi commentare qualcosa su quei dati indietro prima preferirei di no Max sinceramente non vorrei commentare perché rappresenta una disfatta rappresenta veramente non soltanto scusa mi finisco non soltanto a livello militare ma anche umano soprattutto Franco noi spesso ridiamo quando pensiamo all'istate molibdeno queste cose qui noi ridiamo ma le altre persone queste persone ci sono morte per che cosa per quello che tu hai spiegato così perfettamente per quanto riguarda gli errori dell'alto comando un dato in più per chiarirvi ulteriormente la disfatta meno di due anni prima per il trasporto in Russia erano stati necessari circa 200 tradotte ferroviarie per il ritorno ne bastarono 17 immaginatevi il viaggio di ritorno come deve essere stato pensate solo a questo io vai 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 siete ancora convinti che il corpo d'armata alpino italiano possa ritenersi imbattuto in terra di Russia io guarda sinceramente non voglio commentare voglio lasciare che siano i satrape i satrape a commentare perché è una cosa abbastanza agghiacciante scusate il terribile gioco di parole ma sono serio sapete benissimo che quando sono serio è così Grecia la Francia la zona della Savoia la Russia l'Egitto sono quattro scenari in cui noi abbiamo subito perdite mostruose questa guerra parallela che tanto voleva il crapune di predappio ha dimostrato fin dal 40 la sua scarsa propensione alla vittoria però in fondo non è stato lui a pagarne ma queste persone vuoi concludere Max in qualche modo una tragedia che ha segnato tante persone non solo di purtroppo è rimasto cadavere ma anche di chi è tornato indietro e in tanti posti ha significato la cancellazione di una generazione sì assolutamente sì se ricordiamo ancora per la prima guerra mondiale i ragazzi del 99 celebriamo questa generazione la piangiamo è inutile parlare di eh ma erano soldati invasori molti erano soldati che non sapevano a volte né leggere né scrivere non perché fossero degli ignoranti ma perché il processo di alfabetizzazione serio in Italia arrivò dopo il secondo dopoguerra quindi io non ho altro da dire Max se vogliamo procedere con i saluti diciamo che aspettiamo i commenti aspettiamo i commenti nel frattempo sei riuscito a seminarli quelli delle capravedè oppure no guarda sono qui affacciato alla finestra con la valigia pronto a scappare ok io ho una maccherov dietro puntata la testa ragazzi è stato un piacere far parte di questo canale addio per sempre ragazzi dal vostro share della porta accanto vi saluto vi faccio salutare dal vecchio bastardo ciao a tutti e grazie a Lorenzo continuate a sostenere incontri di storia ragazzi scusatemi ancora per l'errore di formare Stani for Paulus vi ringrazio alla prossima e a presto